Buonasera a tutti. L'8 settembre si riguarda la regolità della Biazio di Maria, una festa refugica della Chiesa Cattolica celebrata in campo di carità. Nella tradizione agricola, il ricordo della nascita di Maria procede con i tempi dell'estate e dei raccordi. Molte chiesi hanno come titolo la Biazio di Maria, la devozione a lei e l'identità della nascita di tre stessi e delle bellezze. In particolare questa comunità ricorda la traduzione della Madonna di Maria Felice, generata nella Chiesa Mondiale. La nostra presenza qui stasera è un'occasione per onorare il canto L'Aviata Vergine, ma anche un momento per suscitare le impressioni, evocare i ricordi, diffonde le emozioni. Quale scolta l'amore? La nostra presenza è un'occasione per onorare il canto L'Aviata Vergine, la nostra presenza è un'occasione per onorare il canto L'Aviata Vergine, La nostra presenza è un'occasione per onorare il canto L'Aviata Vergine, la nostra presenza è un'occasione per onorare il canto L'Aviata Vergine, La nostra presenza è un'occasione per onorare il canto L'Aviata Vergine, la nostra presenza è un'occasione per onorare il canto L'Aviata Vergine, La nostra presenza è un'occasione per onorare il canto L'Aviata Vergine, la nostra presenza è un'occasione per onorare il canto L'Aviata Vergine, La nostra presenza è un'occasione per onorare il canto L'Aviata Vergine, La nostra presenza è un'occasione per onorare il canto L'Aviata Vergine, La nostra presenza è un'occasione per onorare il canto L'Aviata Vergine, L'Aviata Vergine, Grazie. 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 Depitati a Maria. Vergine di silenzio. Questo bellissimo brano, scritto da Don Rodrigo Macchetta, esalta in nuova Maria, Vergine di silenzio. Nel ritornello si chiede a Maria, che ascolta la parola che ci osserva, di aprire il nostro cammino e il nostro cammino, mentre le strofe e le trofe sono citate diverse espressioni di silenzio legate all'esperienza di Maria. La monofonia semplice d'austera è il suo massimo eseguita a cappella. Eseguiremo poi, in apre Maria, un propositore spagnolo Parnatore Agni, autore di numerose opere del coro e orchestra eseguiti in tutto il mondo, svolge la sua autorità di propositore, insegnante di musica, maestro di coro e direttore di orchestra. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. 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 ... 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 ...... ... ...... 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